Cominciato alla grande questo 2024, un abbraccio anche a tutti gli amici della chat, fedelissimi, veterani, abbonati, nuovi arrivati, come avete passato questa transizione, questa fine, questo inizio molto simbolico, molto esoterico. Ieri una bellissima puntata con Nicola Bizzi, spero l'abbiate vista, è l'origine della figura di Babbo Natale, puntata molto profonda, anche se il titolo lasciava intendere una puntata leggera. Oggi, primo gennaio, è già il nostro terzo contenuto, chissà se avete visto gli altri, con Marco Enrico De Graia, e il mio editoriale delle ore 18, abbiamo provato a fare una sorta quasi a reti unificati per contrastare i vari discorsi delle istituzioni, che come al solito non perdono occasione per portare acqua alla propaganda, e quest'oggi, insieme a me, insieme a tutti voi, insieme a Nesbetti in regia, abbiamo il ritorno di un amico, Giorgio Baglietti, come stai? Ciao, ciao carissimo e carissimi amici, gli facciamo finta che, ci tenevo a dire che è bellissimo iniziare questo 2024 con voi, veramente il modo migliore per iniziare l'anno, credimi, è stato un vero regalo quando mi hai proposto questa serata, quindi veramente grazie, ed è un vero, vero piacere essere qui, facciamo finta che è il numero uno, assoluto. Grazie, grazie, poi so che anche tu, nel senso noi ci siamo sentiti molto, e hai anche preparato un regalo per tutti i nostri amici a casa, un contenuto totalmente inedito, il titolo emblematico, tematica poco nota fino ad oggi, ma grazie a questa puntata lo sarà sicuramente meno per il pubblico di intenditori che ci segue sempre, allora direi che qualche secondo e minuto accademico sono passati, possiamo entrare nel vivo, introducimi un po' l'idea, il tema, e come mai hai deciso di parlarci proprio questa sera di questa tematica. Sì, beh, guarda, sai c'era la vecchia pubblicità che diceva potevamo così emozionarvi, potevo emozionarvi su tanti argomenti, tante tematiche, era in Le Chateau e casa mia, per carità che è stata copiata, Altare, Saliceto, mia grande scoperta, che sicuramente molti mi copieranno, ma ho voluto iniziare l'anno con una chicca, una novità, che è appunto quella di due profeti, due sognatori, mi piace definire, due grandi sognatori che hanno dato un grande impulso pur restando nel dimenticatorio. Uno, vabbè, uno dei due è ancora citato oggi ampiamente, è ancora una piccola comunità sul Montelabro, e parlo di David Lazzaretti. L'altro, Francesco Grignaschi, invece, è sparito letteralmente, un grande personaggio, un grande sognatore, strettamente collegato a Lazzaretti, si può definire quasi il padre spirituale di David Lazzaretti, anche perché aveva 24 anni di più di David. Ma ci tenevo veramente a questa chicca, a queste novità, di queste mie nuovissime scoperte, poi invito veramente tutti gli amici che sono collegati, e quelli che lo saranno, a scrivermi, a contattarmi tranquillamente, i miei indirizzi che poi metterete nel sottopancia, come si dice. Ed è un invito. Tra l'altro, ringrazio veramente perché ho notato una cosa con grande piacere, che quando queste puntate con Facciamo Finta Che, sono tantissimi, veramente quelli che mi scrivono. Praticamente già da stasera, domani, la giornata a seguire, dovrò dedicare sicuramente un'ora, se non due, dalla mia giornata a rispondere, e questo mi fa un enorme piacere. Bene, due sognatori, due sognatori, due profeti, due personaggi che hanno dato un qualche cosa in più a noi stessi, nel secolo che hanno vissuto e nel secolo in cui siamo. Parliamo del 1800, entrambi due uomini del 1800, il primo è un parroco, Francesco Grignaschi, 1810, inizio del secolo, nasce e diventa parroco a Cimamulera, paese delle Alpi, sul confine tra il Piemolla, Valdossola e la Svizzera, e qui fa un qualche cosa di enorme per un parroco, da credito ad una donna, da credito ad una donna, la quale gli dice semplicemente che lei parlava con la Madonna. Ne abbiamo già accennato di questo, ma volevo fare una sorta di piccolo riassunto, ma aggiungere anche delle novità che sono emerse in questi ultimissimi tempi nelle mie ricerche. Benissimo, per chi non avesse ascoltato la puntata, ruberò proprio pochi minuti per spiegarvi questo, quindi non allontanatevi. Sì, ma dopo la pubblicità, come dice Roberto Giacomo. Francesco Grignaschi è un parroco, innanzitutto un parroco con tutti i carismi del tempo, con la P maiuscola, e arriva in un paese della montagna sperduta delle Alpi Piemontesi, dove lì va incontro una donna che si chiama Maria Giovannone, la quale le dice, reverendo, io parlo con la Madonna, e le fa vedere due anelli che ha nelle mani, uno d'argento e uno d'oro. Con questi due anelli io comunico con la Santa Vergine. E la Madonna, oltre a comunicare dei segreti a lei, pur senza dirle di fare alcuna chiesa lì, notate che in genere il culto mariano, si fonda essenzialmente su una struttura. La Madonna appare in genere ad una pastorella, sordomuta, una ragazza, passatemi il termine moderno, un caso sociale, non certamente a una donna, a un personaggio dell'alta borghesia, a persone veramente molto umili, analfabeti molto spesso, e gli dà un'indicazione precisa. Lì devi costruire un qualche cosa, qualcosa di esoterico sull'esoterico. Questo è già piuttosto strano, perché la Madonna vuole qualcosa di materiale sull'immateriale, ma lasciamo stare. La Madonna a Cima Mulera non vuole alcuna cosa di esoterico, vuole solo esoterismo, con una S sola, rigidamente una S sola. L'esoterismo di Cima Mulera si traduce nel femminino sacro, ossia sceglie una donna che non è una ragazzina, non è una pastorella, è una donna adulta di 33 anni, e 33 anni nel 1849, nel 1849 una donna di 33 anni, passatemi i termini, era quasi anziana. Oggi una donna di 33 anni è una ragazzina. Nel 1849 no. Quindi non sceglie una bambina, sceglie una donna matura per dargli un messaggio preciso. Io ti faccio vedere il mondo. E facendoli vedere il mondo gli dà dei messaggi che non hanno nulla a che vedere con la materialità. Mi fa venire in mente quasi un messaggio catera. Abbiamo fatto una bella puntata qui con Facciamo Finta Che sui cateri, un argomento che mi è molto caro, su cui ho pubblicato un libro recentemente, e su cui ho fatto una conferenza a Pordenone e sarò a Udine e a Modena tra non molto. Quindi invito gli amici dell'Emilia, sarò a Modena al 10 febbraio e a Udine tra una data. Ecco, comunque non è ancora stabilita ma a breve. Ebbene, i cateri anche loro non lasciavano nulla di scritto, odiavano la materialità. Questa Madonna mi sembra una Madonna Catra perché non dà indicazioni di costruire alcunché, ma vuole lasciare un segno a questa donna. La porta in giro per il mondo, gli fa vedere cose che una donna del 1800 non si poteva certo permettere. Lei poteva descrivere a Don Grignaschi l'alba davanti all'isola di Pasqua, il tramonto sulle Ande, l'oceano Pacifico in tempesta, il polo nord, il polo sud, tutto il mondo. Lei non c'erano né libri, lei era analfabeta, né giornali, né televisioni, né radio, né internet, tanto meno. 1849 montagne sperdute del Piemonte, lei descrive tutto questo perché c'è appena stata. E c'è però un problema, sembra una battuta, ma è la verità, l'ho trovato dagli altri di un processo. La Madonna all'andata prendeva la Maria Giovannone nella sua stanza, la prendeva fisicamente e la portava a vedere il mondo. Al mattino, si vede che aveva fretta, e la lasciava in cima al campanile della chiesa. E questo dava un grosso problema al sindaco perché tutti i lunedì mattina doveva tirare giù dal campanile con dei mess, ovviamente con delle funi o con delle scale questa donna. A un certo punto si stufa probabilmente di pagare lo straordinario a questi operai e la fa rinchiudere in un convento dove muore in brevissimo tempo, probabilmente avvelenata. Vieta addirittura un funerale, ma Don Grignaschi va a prendere la salma e la seppellisce anonimamente nel cimitero, diciamo l'era, dove non c'è bisogno di una lapide perché dei fiori spontanei circondano l'area dove lei è seppolta. Da quel momento il messaggio esoterico della Madonna passa a lui. Francesco Grignaschi comincia a guarire la gente, comincia a fare, ad avere episodi di bi e trilocazione, ossia lo si vedono nello stesso momento in vari luoghi, e il sindaco dice e il sindaco dice ho appena eliminato la donna che mi dovevo tirare giù dal campanile, adesso c'ho il parroco che fa i miracoli, denuncia il parroco, fanno un processo nel Monferrato, a Casale Monferrato, dove però lui è prosciolto. Ma lì in sala vi è un parroco che lo invita a non tornare su quelle alpi dove ormai lui è rodiato, ma a restare sulle colline del Monferrato, in un paese che si chiama via Rinci. E qui resterà cinquantacinque giorni. In questi cinquantacinque giorni lui creerà una Gerusalemme celeste. Lui ha messo a questo profeta, questo sognatore, diceva solo una parola di sette lettere, amatevi. E fratelli che erano in causa, in lotta per l'eredità, vicini che lo erano per un confine, per un albero che non si sapeva di chi fosse, come oggi, tra vicini ci si litiga per queste cose, non ci si parla, non ci si saluta, tra fratelli e lo stesso, e si abbracciano. Queste persone che si odiavano si amano, si vogliono bene. La parola magica di sette lettere, amatevi, diventa un mantra. Lui lo ripete ogni domenica, amatevi, e tutti si amano. Succede che a Re Carlo Alberto a Torino, siamo al passaggio tra Re Carlo Alberto e Re Vittorio Emanuele II, arrivano delle notifiche dicendo maestà, nel regno di Sardegna c'è un paese dove la gente si vuole bene. Eh, caspita, questo non va molto bene. E il re decide di mandare i carabinieri in Gorghese a indagare. E il verbale è molto ridanciano, se vogliamo, io l'ho messo sul mio libro, dicendo appunto vedonsi i contadini felici che si abbracciano, vedonsi le donne che vanno cantando alla fontana, lavare i panni e si abbracciano per strada. Quando mai i contadini si abbracciano e vanno a zappare insieme o si odiano l'un l'altro? Le donne perché devono abbracciarsi e andare cantando a lavare i panni, no? Mi sembrava quella canzone di Umberto Tozzi, no? Voglio abbracciare una donna che stira cantando, no? E questo avviene. Grignaschi è un profeta di amore, un profeta di amore e la novità che voglio dirvi questa sera da studi recenti è stato riscontrato che nei dintorni di Via Rigi, tra Via Rigi e Franchini che è una frazione di Alta Villa a Monferrato, siamo nel Monferrato provincia di Alessandria, al confine tra la provincia di Alessandria e quella di Asti, vi sono queste località, c'era un pozzo, un pozzo particolare, non ne avevamo parlato l'altra volta, Gianluca, quindi è questa la grande unità di questa sera, un pozzo in cui lui amava recarsi e addirittura si racconta anche che lui si calasse in questo pozzo forse che ne bevesse l'acqua, quest'acqua avesse una particolarità e attorno a questo pozzo si radunavano delle persone al quale lui impartiva un qualche cosa, probabilmente impartiva il suo segreto. Una parte del suo segreto la lasciava nel suo sangue, lui aveva un sangue particolare, si ammala, come si ammalano tutti in questa stagione, e gli viene fatto un salasso. Il salasso era una pratica curativa di quegli anni che poi tutto sommato non era neanche così sbagliata perché oggi c'è chi non ridisce al salasso, non è vero, a volte un salasso può salvare anche una vita e diciamo nell'Ottocento era una pratica che veniva usata comunemente. Il sangue di Grignaschi viene raccolto da quel suo amico Pargo che lo ha invitato lì in alcune ampolle e viene consegnata alla gente. La particolarità era che un sangue che restava sempre flutto. Una donna di Torino che soggiornava in queste località, la classica donna del Cica, ricordiamo che cos'è il Cica, anzi non ricordiamo che cos'è il Cica, tanto lo si sa, dice, anticipando Piero Angelo dice, ma magari era la bisnonna, dice, mando una provetta a Torino all'Istituto di Medicina Legale e faccio analizzare il sangue perché sicuramente dentro non è sangue ma sarà qualche intruglio che Grignaschi dà così per imbonire la gente. Da Torino gli rispondono semplicemente no, questo è sangue umano di gruppo 0 RH negativo. Tra l'altro anche il mio gruppo sanguigno, apro una parentesi. 0 RH negativo, il famoso gruppo sanguigno di cui Gianluca avete trattato scusate, il mio solito intrugno, ne avete trattato, è un gruppo alieno, è il gruppo che è maggioranza in Sardegna e soprattutto nei Paesi baschi. Abbiamo parlato dei baschi, magari ci ritorneremo, il gruppo 0 RH negativo è concentrato quasi, non dico totalmente, però la stragrande maggioranza in Italia in Sardegna e nel mondo nei Paesi baschi, quella regione che ha il confine tra la Francia e la Spagna, appunto i baschi, questa popolazione stranissima che hanno una lingua che è incredibile, che non ha nulla a che vedere né con lo spagnolo né col francese, è una lingua primitiva, ossia come il sardo. Vedete, è una cosa molto particolare. Oserei Atlantidea, è una lingua Atlantidea. Atlantidea, bravissimo. E tra l'altro quando si parla di Atlantide, dato che io insegno filosofia e storia e amo molto Platone, racconto ai miei studenti che Platone, che è una delle basi dei pilastri insieme a Socrate e Aristotele della società moderna, i filosofi della filosofia occidentale, Platone nel Timeneo e nel Crizia parla di Atlantide. Però per i critici alla CICAP dicono ma qui ha scherzato e perché negli altri libri non scherzava e qui scherza? Però ha scherzato, ha voluto scherzare, no? E ci parla di Atlantide. Non solo, ci parla di uomini che volavano e che potevano spostare le montagne con un dito. Platone con la P maiuscola, il pilastro della filosofia occidentale. Quindi Atlantide è sicuramente qualche cosa di molto, molto tangibile, ma ovviamente non è è un altro argomento che tu tratti spesso e che quindi esula dal mio campo. Però ci tenevo a dire questa traccia proprio stando coi piedi per terra dicendo no, ne parlano i libri di filosofia, quelli con la F maiuscola di Atlantide. Non è fantasia, assolutamente. Ebbene, Grignaschi, quindi, il risponso è no, è sangue, signora, è sangue umano, zero RH negativo. Resta sempre fluido e il sangue di Grignaschi aveva una particolarità, faceva luce. E che questo, non lo dico perché me lo sono inventato, perché c'è negli atti di un processo, una signora che si chiamava Accatino di Cognome, che abitava a Camagna, a Monferrato, apre, ti tiene questa ampollina di sangue nell'armadio, sai, un tempo si tenevano nell'armadio, no, le foto dei dispersi che sono in Russia, in guerra, dei parenti morti, dei bambini morti, no, soprattutto, delle foto particolari e se, quindi, era una reliquia per lei, apre l'armadio di sera e sviene perché questo sangue fa luce e illumina. Grignaschi andava a quel pozzo e faceva qualcosa di particolare, univa probabilmente il sangue con l'acqua, il liquido, qualche cosa di atavico, di ancestrale, quel pozzo era un punto importante per lui e attorno a quel pozzo si radunava una folla particolare fatta di donne, il femminino sacro perché Grignaschi, parroco, con la P maiuscola, dava una grande importanza alle donne. Ah, non era grappa, ma non bevevano questo sangue, lo dico a Fabio, non lo bevevano, faceva soltanto luce, probabilmente bevevano altro. Ebbene, questo sangue creava questo connubio col femminino sacro. Il femminino sacro era qualcosa di importantissimo per Grignaschi, era l'emblema di Ashera di cui abbiamo parlato, ma ritorniamo, questa sera mi piace anche fare dei piccoli escursus avanti e indietro nel tempo, era il mito della donna dio, del dio femminile, del dio donna. E un gruppo di donne sono fedelissime a Grignaschi, lo seguono in tutte le sue avventure, tra cui una suora, una suora maestra. Questa è la grande novità. C'era una maestra, attenzione Gianluca, dire una maestra nel 1849 non è come dire una maestra nel 2023, perché le donne non studiavano. Se in una famiglia c'era il maschio e c'era la femmina, facevano studiare il maschio. Quando lo facevano studiare, perché generalmente il destino era la zappa e la vanga, per zappare l'orto e i campi. Ma se c'era da studiare la femmina, no, perché deve studiare una donna? Si sposerà, prenderà marito, farà figli, quindi è totalmente inutile che studi. E invece no, questa donna studia, diventa maestra e si fa monaca, quindi conosce il latino, conosce l'inno e segue fedelmente Francesco Grignaschi. E intorno a questo pozzo, lì nella zona tra Altavilla e Via Rigi, avviene qualche cosa. Quest'acqua diventa un'acqua miracolosa. Fatto sta che la comunità diventa sempre più forte, sempre più numerosa e questo dà fastidio al potere. Grignaschi diventa un profeta di amore, di speranza, dà una visione, dà una alternativa alla popolazione di queste vallate abituate soltanto ad avere in mano una zappa, una vanga e le donne ad essere solo madri e basta. Mai essere donne, essere solo madri. Come diceva la canzone di Fabrizio di Andrè dedicata alla Madonna. E soltanto madri e basta. E gli uomini soltanto zappatori e basta. Contadini o commercianti, ma certamente mai, assolutamente mai, sognatori. Lui li fa sognare da un sogno, da qualche cosa. A Via Rigi c'è un qualche segreto, qualcosa che lui scopre, che lui trova lì e che deve essere soltanto lì. Trova la sua Gerusalemme celeste. Fa delle processioni notturne a un cimitero antico, dove c'è un'antica croce templare, che poi purtroppo è sparita. Probabilmente quando hanno rifatto il cimitero hanno pensato che fosse un pezzo di pietra e l'hanno distrutta, ma questo avveniva purtroppo. Lui faceva delle cerimonie alla sera, partiva lui col suo gruppo di fedeli, soprattutto queste donne, andava davanti a questa croce templare antica, spruzzava il suo sangue sulla croce e questo gesto, unito all'acqua del pozzo, dava un osmosi alla gente. La gente che era lì si metteva a cantare, a ballare, sveniva. È un po' come avviene nei culti americani, dei pentecostali, per cui lo Spirito Santo scende dall'alto. Qui lo Spirito Santo era incarnato dalle mani di Grignaschi, che distribuiva quest'acqua e questo sangue. ma i 55 giorni stanno per passare. Lui farà uno strano viaggio nell'Italia centrale e nell'Italia centrale c'è un personaggio che si chiama David Lazzaretti, che ha 24 anni meno di lui. David Lazzaretti nasce il 2 novembre 1834 ad Arcidosso e diventerà un grande profeta, molto molto più conosciuto di Grignaschi, ma da Grignaschi ne trae la linfa. Tornando a Grignaschi purtroppo i 55 giorni stanno per finire e il re e il papa e tutti i benpensanti decidono che bisogna dire basta. Via Rigi, Franchini, il Pozzo, il Sangue, la Croce Templare devono sparire. Deve tutto ritornare alla normalità. Il sogno deve finire, ci si deve svegliare. E ci penseranno i cannoni del re di Sardegna che circonderanno il paese dicendo o tornate nella normalità quindi a odiarvi, a fare le cose normali, per normalità si intende la bruttezza, la materialità, il fatto di pensare soltanto al denaro, al potere, alla ricchezza e basta, o se no vi bombardiamo. E i Savoia lo facevano, l'hanno fatto a Milano con Baba Beccaris. Quindi questi sei sono contadini, persone semplici e vedendosi questi cannoni, questi fucili, questi soldati che circondano il paese abbandonano il credo di Grignaschi, abbandonano il sogno e si aprono alla triste e consuetudine realtà. Meno un gruppo di donne, il gruppo di donne li rimane fedeli. Ci sarà un secondo processo al quale Grignaschi viene condotto con un carro completamente schermato di panni neri affinché lui non potesse ipnotizzare i carabinieri. viene portato di nuovo al processo e questa volta le cose cambiano. Viene condannato a dieci anni di duro carcere per avere così distratto la popolazione. Non saprei neanche io che termine di trovare, avere fatto sognare della gente abituata soltanto a non sognare mai anche di notte. Può essere. C'è un avvocato che lo difende e si chiama Cesare Broferio. Broferio è forse il più grande avvocato italiano e Broferio ritornerà anche con Lazzaretti quindi teniamo a mente questo nome. Ma chi paga le parcelle per questo famoso avvocato? Le pagano i francesi perché in Francia è arrivata la notizia di Grignaschi come un vento che porta i polli che porta le spore che porta qualche cosa porta anche i sospiri di questa gente e vanno di là dalle Alpi arrivano a Nizza dove un gruppo sempre più nutrito dice Grignaschi è un nuovo messia lo dobbiamo avere noi francesi. Pagano l'avvocato Broferio il quale perde la causa Grignaschi viene condannato a dieci anni di carcere perturbativa della quiete pubblica ma esce prima dal carcere e lascerà l'Italia e va a Nizza dove è accolto come un messia. perché in Francia? Sempre la Francia di mezzo in questi anni in Francia siamo nella seconda metà dell'Ottocento avvengono delle strane cose avvengono dei grandi personaggi esoterici Papus Pella d'Asta Mislas de Guaita Parigi diventa la città esoterica per eccellenza si parla di qualche cosa di mistero si comincia a parlare sempre più di mistero di qualche cosa che non ha nulla a che vedere con la materialità e di questo se ne renderà partecipi anche l'altro nostro protagonista che è Davide Lazzaretti attenzione non Davide Davide e Davide nasce nella sperduta provincia toscana Arcidosso paese della provincia odierna di Grosseto Maremma siamo nella piena della Maremma da una famiglia di barocciai ossia di carrettieri quelli che portavano il materiale sui carretti lui era un uomo abituato a bestemmiare a bere vino a frequentare bordelli sicuramente non era un santo ha per una particolarità quando nasce le cronache dei personaggi che erano lì presenti alla sua nascita ci dicono che aveva doppi occhi ossia quattro occhi e due lingue questa doppiezza sparisce poco tempo dopo ma c'è che testimonia questo ovviamente non c'erano le macchine fotografiche per cui purtroppo forse c'è qualche disegno ma doppi occhi e doppia lingua viene chiamato Davide non Davide perché secondo il suo padrino suo zio che era un uomo che amava molto l'esoterismo pur essendo un barocciario ed è molto strano i barocciari sono quelli che portano il materiale gli antenati dei camionisti in un certo senso dice no chiamatelo David perché questo bambino un domani sarà un nuovo re David e quindi David Lazzaretti David Lazzaretti un bambino come tutti gli altri no fino a un certo età a 14 anni a 14 anni ha un attacco di febbre si racconta che questa febbre sale oltre i 42 gradi poteva morire ha delle visioni delle strane visioni e la visione più importante è quella di un frate un frate che gli dice che la sua vita è un mistero che neanche lui poteva comprendere ma che un giorno questo mistero sarà svelato David Lazzaretti 14 anni comincia a leggere e a scrivere attenzione ritorno a dire come nel caso della donna Maria Giovannone quella che parlava con la Madonna qui siamo nella prima metà dell'Ottocento lui nasce nel 1834 siamo nella prima metà dell'Ottocento i ragazzi non andavano a scuola lui era un barocciaio a otto anni portava già i carretti con le pietre con il materiale del Montamiata soprattutto a Roma per costruire quella che poi diventerà la Roma ad esempio Umbertina il quartiere Prato c'è tutti quei quartieri di Roma che diventano sempre più grandi quando arriveremo poi all'unità d'Italia era un trasportatore però vuole leggere impara a leggere brevissimamente e a scrivere e si inizia a scrivere poesie stranissimo per la famiglia che lui che è abituato tutto il giorno a portare pietre su un carretto circondato da gente che bestemmia che beve vino che non è sicuramente spirituale lui scrive delle poesie e a chi le manda queste poesie le manda a Broferio ah scusate non è Cesare Angelo Broferio piccolo lapsus le manda ad Angelo Broferio all'avvocato Broferio all'avvocato di Grignaschi le manda a Broferio e Broferio pur essendo un grande personaggio un grande avvocato le legge le accoglie e le legge legge le poesie di questo quattordicenne della sperduta provincia toscana e dove le legge le legge nell'aula del Parlamento subalpino nel Parlamento dove siede Carlo Alberto dove siederà Vittorio Emanuele II le legge nell'aula del Parlamento anche questo è piuttosto strano è che un quattordicenne della sperduta provincia toscana un barocciaio tra l'altro uno straniero perché non erano neanche collegati la Toscana con il Piemonte il Broferio il più grande penalista italiano le legge nell'aula del Parlamento ma andiamo avanti vedete che i sognatori lasciano il loro segno nel 1868 a vent'anni dopo la prima visione dopo di quel monaco ha un'altra visione un altro attacco di febbre che lo porta in punto di morte e vede San Pietro quindi lui dice questo il quale gli dice che lui deve andare da Papa Pio IX lui barocciaio deve andare dal Papa Pio IX e avviene Lazzaretti prende il suo carretto va a Roma entra in Vaticano e Pio IX lo riceve io sfido chiunque oggi con Papa Francesco per carità con tutto quello che è Papa Francesco rispetto a un Papa come poteva essere Pio IX un Papa Imperatore ad andare partire adesso andare e Papa Francesco che lo riceve così magari Papa Francesco lo fa anche ma Pio IX non lo faceva Pio IX riceve questo barocciaio non era un nobile arriva là vestito come trasportatore di pietre e Pio IX lo riceve e lui che cosa va a fare da Pio IX gli va a dire non va a pregarlo non va a chiedere un'indulgenza lo va ad accusare gli dice Papa non Santità Papa tu devi riformare la Chiesa perché questa Chiesa non è la Chiesa voluta da Cristo e il Papa lo ascolta non lo fa a restare non lo fa a mandare via circondato dai gendarmi lo ascolta lo ascolta e ascolta il suo messaggio lanciato il suo messaggio al Papa vuole tornare a casa ma anche qua attacchi di febbre questa febbre è molto strana cerca un rifugio in una grotta siamo nella zona della Sabina in un monte che si chiama Monte Calvo e ha di luogo un attacco di febbre come dicevo non era Covid febbre altissima e anche questa volta una visione la visione di un qualche cosa di enorme un antico guerriero che si chiamava Manfredo Pallavicino di Milano che era il diretto discendente di Pipino il breve il fondatore dei Carolingi il padre di Carlo Magno questo guerriero antico guerriero dell'anno dell'ottocento dell'anno dopo Cristo cioè di mille anni prima qui siamo nel 1800 qui siamo nell'ottocento e gli dice due cose importanti gli dice che lui è lì in quella grotta questo uomo di mille anni prima e soprattutto gli fa vedere un simbolo che deve diventare il suo emblema sono due C una da una parte e una dall'altra con in mezzo una croce non ve la posso disegnare fate conto una C girata giusta una C al contrario e in mezzo la croce e questo segno ce l'avrà sulla in fronte ovviamente uno potrà pensare che se l'è fatto lui con un coltello oppure altri dicono che dopo questo attacco di fermo gli viene spontaneamente in mezzo alla fronte qui dove c'è il terzo occhio a questa doppia C con la croce e questo simbolo lo porterà sempre con sé sui suoi standardi sarà il simbolo della suo mistero il simbolo del suo mistero e come si riprende da questo con il suo simbolo in fronte inizia a scavare a mani nude scava 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 e trova uno scheletro corredato di un'armatura un'armatura antica il guerriero Manfredo Pallavicina era lì davvero lo porta fuori e lo porterà poi sul Monte Labbro il Monte Labbro è una delle cime del Montagnata lui ha la visione che deve creare il suo impero il suo regno di Dio sulla terra sul Monte Labbro una delle cime del Montagnata ripeto nella zona della Maremma Toscana appunto provincia di Grosseto e il messaggio che gli dà questo guerriero di mille anni prima è che David Lazzaretti deve ha un grande compito deve riportare sul trono di Francia il giusto pretendente che sarà chiamato il grande monarca i francesi usano le Roi Verdi il Re Verde e di questo se ne occupa anche Berangier-Saunier di Rennes-le-Chateau uno dei dei compiti di Berangier-Saunier di cui abbiamo parlato il parroco dei miliardi di Rennes-le-Chateau era di riportare in Francia la monarchia siamo nel pieno della repubblica e doveva riportare in Francia la monarchia e qual era il pretendente giusto si chiamava Conte di Chambord Berangier-Saunier ha uno stretto collegamento col Conte di Chambord Davide Lazzaretti avrà uno stretto collegamento con il Conte di Chambord ma Saunier parlava francese viveva in zona diciamo andava spesso a Parigi Lazzaretti parte e va a Parigi dal Conte di Chambord ed è ricevuto dal Conte di Chambord io dico soltanto questo che mi piace pensare che fosse così fortunato da poter andare a parlare con Pio IX col pretendente al trono di Francia ma non basta addirittura ci sarà una donna che sarà colpita dal suo messaggio ed è una delle chiamiamola damigelle della regina Vittoria d'Inghilterra e le creerà un contatto con la regina Vittoria Davide Lazzaretti viene ricevuto anche dalla regina d'Inghilterra l'imperatrice all'epoca della regina Vittoria sull'impero britannico non tramontava mai il sole come con Carlo V era il più grande impero del mondo e lei era una delle donne più potenti al mondo se non la donna più potente del mondo la donna l'imperatrice dell'impero britannico su cui non tramontava mai il sole che andava dall'Australia all'India al Canada ebbene la regina Vittoria riceve il barocciaio che porta le pietre su un carretto Davide Lazzaretti lo riceve il conte di Chambord lo riceve il papa più nonno lo riceve la regina Vittoria io direi che basterebbe già solo questo per chiudere la puntata e dire caspita abbiamo parlato di un personaggio enorme ma andiamo avanti il conte di Chambord praticamente riceve il messaggio di Lazzaretti ne viene colpito probabilmente più che da Beraget Sognier Beraget Sognier era su un suo ideale quello di riportare sul trono di Francia il re Lazzaretti ha un progetto che il conte di Chambord prende a pieno però poi succede che sia nel caso della regina Vittoria sia nel caso di Pio IX sia del conte di Chambord tutti questi grandi personaggi deludano Davide Lazzaretti Davide capisce una cosa che non deve affidarsi ad altri è lui il protagonista è lui che deve rigenerare il mondo è lui che deve riportare il mondo ad uno stato diverso è lui grande sognatore come Francesco Grignaschi che deve fare un grande cambiamento per il suo amico Grignaschi che è un po' la sua guida spirituale il cambiamento non era materiale era un cambiamento totalmente esoterico dentro di noi era il graal che abbiamo dentro era la pietra filosofale che è dentro ognuno di noi che doveva uscire e quindi doveva essere abbandonato tutto quello che è la bramosia di ricchezza di potere e quant'altro per Davide Lazzaretti è un doppio scopo questo sì ma anche cambiare il mondo esoterico cambiare la società cambiare la chiesa cambiare tutto affinché tutto diventasse migliore il sogno di questo profeta doveva diventare una grande realtà e la realtà la crea sul Montelabro qui crea una sua comunità che arriva a grandi numeri migliaia di persone pensate che c'è una data il 13 aprile 1869 ripeto 13 aprile 1869 180 contadini lasciano le loro proprietà e vanno sul Montelabro a zappare il campo di Davide Lazzaretti affinché Lazzaretti e la sua famiglia potesse vivere senza doversi distrarre dal suo impegno totale ossia la predicazione ossia il sogno lui doveva sognare ci pensavano i 180 contadini in questa giornata magica del 13 aprile 1869 a poter mantenere Davide Lazzaretti guardate che qualcosa di enorme già oggi io sfido chiunque conosca dei contadini a dire leo vieni a coltivare il campo io devo leggere devo studiare quindi tu coltivami il campo così ti dicono buonasera ti dicono no mi paghi 50 euro all'ora te lo faccio no spontaneamente 180 contadini lasciano le loro proprietà e vanno a coltivare quella di Davide affinché lui possa mangiare possa sopravvivere possa vivere e continuare il suo sogno la sua missione possa fare il profeta la praticamente questa questo messaggio viene chiamato da Davide Lazzaretti il campo di Cristo questo campo sarà chiamato il campo di Cristo Cristo è tornato sulla terra e ha illuminato le menti di 180 uomini adusi alla bestemmia adusi alla materialità e li ha illuminati e li ha mandati a coltivare un campo che verrà chiamato il campo di Cristo in cui Davide Lazzaretti troverà la linfa la comunità di Lazzaretti diventa sempre più numerosa su questa montagna e lui vuole costruire ovviamente il suo impero ha capito che questi personaggi la regina d'Inghilterra il conte di Chambordi il papa stesso non gli servono sono un qualche cosa di più è lui l'artefice è lui il protagonista con le sue doppie C sulla fronte incise e la sua comunità lancia il suo messaggio al mondo arrivo io a cambiarlo ci saranno poi degli episodi in cui dal Monte Labo tra l'altro una montagna io vado sono andato spesso ho anche degli amici in zona e quando è nittido vedi benissimo tutte le isole vedi l'isola di Monte Cristo lì davanti e lui vedendo l'isola di Monte Cristo passerà se non sbagli un anno sull'isola di Monte Cristo così senza mangiare senza nulla probabilmente si ci bava di pesce non lo so come i catari torniamo sempre ai catari decide di passare un anno su questa isola sperduta famosa da di Malconte di Monte Cristo poi tornerà sul Monte Labro ma è sul Monte Labro che costruisce il suo impero e costruisce delle strutture ci sono degli edifici che ci sono ancora oggi la più importante di queste è una chiesa dedicata a Maria Maddalena sempre lei sempre Maria Maddalena il mito di Berangir Sonnier Tour Mardala Villa Betagna Grotte di Maria Maddalena la donna in croce nei cimiteri di Ren le Chateau ed intorno il mito dei catari sempre lei Maria Maddalena il femminino sacro per Grignaschi e per Davide Lazzaretti l'emblema di un qualche cosa di enorme ebbene il 18 agosto 1878 David capisce che è il momento di dire adesso dall'esoterismo passiamo all'esoterismo passiamo in pratica scendiamo dalla montagna dove tutti abbiamo capito il grande messaggio il mio grande messaggio scendiamo a valle scendiamo ad arci dosso e prendiamoci il mondo il mondo non ci ha ascoltato noi ce lo prendiamo lo cambieremo con un vessillo che ho scritto la Repubblica è il Regno di Dio ripeto la Repubblica è il Regno di Dio Davide Lazzaretti scende con un suo gruppo la sua comunità più di mille persone cantando degli inni cantando delle poesie ne posso citare alcune una ad esempio diceva voi possessori di merci e di villaggi diminuite un po' quel vostro lucro e siate meno splendidi nel lusso e date il pane al misero che langue altrimenti vedrete darvi sacco alle vostre sostanze è un messaggio abbastanza pesante una minaccia vera e propria come dire insomma adesso sono cambiati i tempi poi c'è un'altra che sempre viene cantata da questo gruppo scritto da Davide Lazzaretti sono le stesse che mandava a Broferio che le leggeva nell'aula del Parlamento davanti a Re Carlo Alberto e a Redditorio Emanuele II chi sono i re del mondo non sono caduca polvere perché sono così orribili e stuprano il mio onore di essere mortali ignorano e vantano il potere non serviranno l'algebra dei vostri computisti l'ingegno dei meccanici la mano degli artefici a reggervi sul trono cadrete in man dei popoli un solo sarà re sono messaggi che vengono cantati scendendo da questa montagna bellissima tra l'altro del Monte Amiata il gruppo si aumenta sempre più scendendo come una valanga che parte da una piccola porzione di neve diventa sempre più grande scendendo a valle con lui ci sono i figli i suoi due figli la moglie perché lui si era sposato ha avuto due figli il maschio un nome particolare Turpino e scendono a valle scendono verso arcidosso scendono per andare a conquistare il mondo a cambiare il mondo una meta era sicuramente Roma ma si è deciso che bisogna fermarli e fermarli nel modo peggiore con Grignaschi il profeta Grignaschi viene fermato dalla legge con un processo farsa un processo farsa nel quale viene condannato senza lasciare alla difesa possibilità di replica in questo caso si useranno le armi sarà un soldato che si porrà davanti a Davide Lazzaretti e gli sparerà in fronte proprio centrandolo nel cuore di quella doppia C centrando il suo simbolo ha voluto quindi cancellare la vita di Davide Lazzaretti e cancellare quel simbolo quel messaggio Davide Lazzaretti è morente viene poi portato lì vicino e il comune di Arcidosso non vuole che sia sepolto lì sarà sepolto a Santa Fiore un paese vicino ma si racconta e ci sono varie prove che lo testimoniano che venga decapitato e la sua testa la vuole indovinate chi Lombroso a Torino nel famoso museo di Lombroso Lombroso non so se l'avete già sentito ma è colui che diceva che dalla fisioniomica si indivinava se non era un criminale e quindi faceva decapitare appunto tanti banditi soprattutto il banditismo meridionale venivano portati a Torino nel suo museo e queste teste messe una cosa piuttosto macabra messe su un tavolo e diceva ecco vedete le ciglia asfolte gli occhi ravvicinati le labbra strette vuol dire che questo era un delinquente un criminale era vero succedeva davvero così cose ovviamente oggi assurde tant'è che c'è più di una persona che ha chiesto di di chiudere questo museo ecco io Gianluca magari più compito tuo non ci sono mai stato però credo che esista ancora questa sede di Lombroso e si dice che la testa di Davide Lazzaretti sia lì perché Lombroso l'ha voluto ha voluto studiare questo cranio questa testa Davide Lazzaretti muore 1878 ovviamente il suo impero si sfalda arriveranno sui soldati che distruggeranno quasi tutto nel suo tempio dove c'è la chiesa di Maria Maddalena ma dovranno passare cento anni nel mille qui siamo nel 1878 circa cento anni dopo nel 1950 succede una cosa strana Francesco Grignaschi e Davide Lazzaretti sono ormai morti sono polvere polvere alla polvere cenere alla cenere ma a Roma probabilmente in Vaticano e negli alti comandi dello Stato Italiano della Repubblica Italiana si decide che bisogna cancellare del tutto questi due sognatori questi due profeti nel caso di Grignaschi ci penserà al Vaticano arriverà una task force di sacerdoti a Via Rigi passerà casa per casa a requisire quelle ampolle di sangue che ancora rimanevano e un libretto che si chiamava Crux de Cruce dove Grignaschi aveva dettato il suo Vangelo la sua visione della spiritualità viene sequestrato tutto e portato chissà dove nei famosi archivi vaticani punto di domanda qualcuno va a Nizza dove aveva una bella tomba va di notte la distrugge prende le spoglie di Grignaschi e li va a disperdere nel mare in Italia il Ministero della Difesa fa una cosa strana decide che per diciamo allenare i sotto ufficiali gli ufficiali diciamo la truppa dell'artiglieria bisogna trovare un poligono di tiro e qual è il poligono di tiro migliore? Il Monte Labro e il poligono di tiro su cui c'è quindi dove c'è praticamente il luogo in cui devono cadere le bombe e guarda caso la chiesa di Maria Maddalena costruita da Davide Lazzaretti cento anni prima come mai nel 1950 siamo in Repubblica non c'è più il re non c'è più nulla di cosa avevano vissuto sia a Grignaschi sia a Lazzaretti bisogna cancellarne anche il ricordo allora in Francia distruggono la tomba disperdono le ossa di Grignaschi affinché nessuno potesse andarci a pregare sopra a Via Rigi ripuliscono tutto quello che era il suo suo insegnamento a darci dosso al Monte Labro lo vogliono fare con i cannoni e succede una cosa strana i cannoni vengono puntati l'obiettivo tipo una croce viene messo come dei tirassegni dove si spara con la pistola la stessa cosa col cannone il centro da colpire è la chiesa di Maria Maddalena o questi cannonieri erano poco ad uso ad usare un cannone o forse a Maria Maddalena non andava di vedere distruggere la propria chiesa tant'è che questi cannonati partono arrivano su davanti alla chiesa e vengono deviati da una mano invisibile e nessuna cannonata colpisce la chiesa che è ancora visita visibile oggi allora una mano segreta una mano misteriosa non ha potuto impedire di distruggere la tomba di Grignaschi di portare via il suo sangue e il suo vangelo ma ha potuto deviare questi colpi di cannone e ancora oggi il messaggio di Davide Lazzaretti è lassù tangibile si staglia contro il cielo della maremma su questo monte il monte Lavaro detto anche monte Lavaro e il suo ricordo i sospiri di questi due uomini che hanno lasciato un grande segno sono ancora lì io ho scritto in un mio libro La Dea Dimenticata una frase che mi piace ripetere Grignaschi credeva fermamente nell'altra metà del cielo ed esaltava la virtù femminile alla massima potenza la donna secondo i suoi insegnamenti non doveva essere solo una parte della chiesa ma la protagonista assoluta della chiesa la protagonista assoluta non doveva essere un oggetto ma il soggetto per eccellenza per Davide Lazzaretti lo stesso la donna era protagonista era qualche cosa di fondamentale ma aveva voluto a differenza di Grignaschi creare una sorta di impero la repubblica è il regno di Dio Francesco Grignaschi e Davide Lazzaretti due profeti due veggenti due semidei più semplicemente due uomini che sono riusciti in un'opera immensa hanno fatto sognare chi non lo aveva mai fatto e hanno messo in testa a persone ottuse ignoranti e tristi che c'è qualcosa oltre la linea dell'orizzonte e solo per questo meriterebbero un monumento sulla piazza di Viarigi e di Cimamulera e di Arcidosso un grande monumento per il loro ricordo lassù dove il vento soffia e spazza via la polvere e i sussurri di chi non ha mai avuto voce io ho scritto queste parole di getto pensando a questi due uomini due profeti due sognatori il loro sogno continua ancora e forse mi piace pensare che qualcuno di noi addormentandosi riesca a proseguire questo sogno hai visto mai magari a portarlo a compimento un grande sogno un grande progetto sicuramente la vita grazie bellissima questa puntata ha tenuto fin qui collegati tutti ma io vi approfitterei del fatto che siamo in diretta Giorgio se ti va amici e amiche da casa mi scrivete domanda e l'ultima parte sarà proprio a dialogo con gli amici a casa per esempio mentre ringrazio per ricoltura paulistica Martina Donda e Lucia Buzzi mi sovviene la domanda di Monica che chiede se le poesie di Lazzaretti sono state raccolte e salvate sì 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 io ho un contatto ho un contatto lì nella tra la chiesa di Lazzaretti ecco mi dimenticavo di dire che esiste ancora la chiesa di Davide Lazzaretti mentre di Grignas che non esiste più nulla di tangibile ma soltanto un sogno di Davide Lazzaretti esiste la chiesa giuris davidica che conta un numero ovviamente minore di adepti rispetto alle migliaia che aveva lui e tra cui c'è un amico si chiama Chiappini il quale mi ha dato del materiale che io ho messo in un mio libro e appunto esistono ancora queste sue poesie che io ho rimesso anche in questo mio libro che è La Dea Dimenticata che era uscito prima col titolo Il Cristo delle Dolci Colline e ci sono poesie ci sono foto ci sono racconti ci sono disegni soprattutto disegni di qualche cosa che lui aveva progettato lui era un grande progettista aveva immaginato una torre altissima sul Monte Labro che poi cerca di costruire ma che rollerà perché sicuramente il materiale del tempo le impediva questa altissima torre però le poesie sì ci sono comunque invito a scrivermi e sicuramente ne ho anche molte altre che posso poi darvi sicuramente certamente allora so che Mesbet ha qualche foto sull'argomento se ti va ne vediamo qualcuna e le commenti insieme Giorgio ti va allora vai regia guardiamo qualche foto e Giorgio ce le commenta questo è Francesco Grignaschi l'unica immagine che esiste di questo parroco è un po' sgranata perché purtroppo è una foto del mille cioè un disegno praticamente non so se è un daguerotipo un disegno del 1849 Francesco Grignaschi un piccolo prete che aveva questo grande sogno questo è Francesco Grignaschi questo è un altare a Cima Mulera dove avviene un miracolo Francesco Grignaschi dice messa qua a un certo punto c'è un vetro davanti a questa statua della Madonna la Madonna ha una collana al collo e il mattino dopo la trovano davanti al vetro come se fosse incollata sul vetro ma non era assolutamente incollata era messa lì da una mano tenuta una mano invisibile verrà chiamato il vescovo di Novara il quale sale a Cima Mulera dicendo no non è assolutamente un miracolo è qualche buon tempone che l'ha voluta mettere parole sue con uno spillo sul vetro io sfido chiunque a prendere uno spillo e a piantarlo sul vetro comunque per il vescovo era una sciocchezza fatto sta che questa Madonna viene coperta e mettono davanti un'immagine mettono in specie un pannello di legno ma il vescovo di Novara non voleva più che la gente andasse a pregare davanti a questa Madonna strano eh dove Grignaschi diceva messa chiesa di Franchini dove Grignaschi diceva messa poi c'è un'altra chiesa questo è il cimitero di Cima Mulera in quella parte in basso che si vede verso il muro e seppellisce lì Maria Giovannone e il vescovo il sindaco vieta qualsiasi qualsiasi cerimonia qualsiasi lapide e dei fiori spontanei circondano la vara e proprio in quel punto del cimitero ovviamente poi hanno fatto dei lavori non si sa dove le spoglie siano finite ma faceva talmente paura che probabilmente le hanno spercuti anche questa era una cappella dove pregava Grignaschi e dove avvengono degli strani fenomeni ottici quindi luci notturne che la Madonna faceva sentire anche lì o Maria Maddalena Cima Mulera il campanile famoso dove il sindaco doveva andare a tirare giù la Maria Giovannone ma la Madonna la prendeva in camera sua lì in paese e la lasciava tutte le domeniche notte lunedì mattina in cima a quel campanile abbracciata a quella cuspida ecco questo è una fresca purtroppo si vede un po' sgranato una ultima cena lì vicino a Cima Mulera una chiesa che amava molto Grignaschi dove si vede Gesù che palesemente abbraccia una donna non è San Giovanni questo non vengano a dirmi questo è Gesù che abbraccia una donna Maria Maddalena Grignaschi amava molto questa ultima cena e ci si soffermava spesso lì vicino c'è anche una chiesa dove c'è questo appreso con San Rocco che ha la ferita sulla gamba destra come a Rennes-le-Chateau e come ad Altare provincia di Savona le due località che seguo da molti anni nel mio ricerche ecco questo si vede un po' meglio è quella ultima cena del 1400 non l'ha dipinta Banksy o Basquiat è un dipinto c'è un affresco molto antico in cui si vede palesemente Gesù che abbraccia questo San Giovanna visto che si dice sempre che è San Giovanni quello discepolo che lui amava a me sembra proprio una donna comunque se il Cicab dice che è San Giovanni è San Giovanni via Rigi via Rigi una foto una foto preziosissima del 1800 l'epoca di Grignaschi qui in questi proprio in quei momenti quei bambini che vediamo nella piazza giocare hanno conosciuto Francesco Grignaschi oggi oggi via Rigi via Rigi sempre vedete sulle colline del Monferrato poi c'erano delle immagini di Lazzaretti credo che se le trovi adesso chiediamo alla regia di recuperare anche quelle mentre io ti vorrei fare qualche domanda nel senso che più di una persona ha fatto questa domanda ma chiediamo quella di Mariana perché professore secondo lei la chiesa tende a ostacolare o ad opprimere con l'aiuto dello Stato queste persone particolari assolutamente è calzantissima questa domanda è vero è verissimo la chiesa tende soprattutto a cancellare questo vi porto un esempio ci tengo a parlare ma facciamo finta che il mio canale per eccellenza è una ricerca che sto facendo in questo periodo poi faremo una puntata su questo di Gianluca perché sto lavorando c'è un non vi dico il luogo perché sennò qualche canale rivale non faccio nomi brutta gente sicuramente ci andrà e quindi poi non voglio che mi anticipi no non abbiamo rivali abbiamo gente che si ispira liberamente a quello che facciamo con lo stesso titolo le stesse cose ma non abbiamo rivali un po' altomeno non ce ne accorgiamo poi se non c'è un paese c'è un paese dove appare la madonna dal 1949 di una signora che io conosco ho la foto con lei quando appare la madonna sulla cima di questa montagna vede una luce rotonda come un piccolo sole lei da casa sua vede questo parte da su e c'è la madonna il marito molto più prosaisticamente mi ha detto lei dice che è la madonna però non è che questa immagine dice io sono la madonna però lì hanno costruito stanno costruendo una chiesa e sapete chi la costruisce questa chiesa siamo in italia dei francesi ma sapete di dove di re le chateau carcassonne io sono rimasto allibito perché vado su in questo paese e vedo dei pullman francesi delle macchine francese con la targa con il scritto il numero 11 voi sapete che in francia non mettono to svg no mettono dei numeri no vabbè con le targhe vecchie non le classiche targhe in francia c'è un numero e 11 è la provincia di carcassonne da carcassonne costruiscono la chiesa qua perché il vescovo locale assolutamente non vuol sentire parlare di miracoli è vero la chiesa tende a a non credere assolutamente ai miracoli se non sbaglio di meggiugori non è ancora stato stabilito adesso che appaia la madonna quindi che sono cosa dagli anni ottà sono 40 anni e più e sicuramente danno fastidio questi personaggi personaggi come Grignaschi e Davide Lazzaretti sono un impedimento e mi passa un po' passami un po' questo termine per la chiesa un po' anche come per lo Stato no bisogna cercare di uniformarsi essere nella massa quelli che cantano nel coro ecco vengono amati quelli che cantano nel coro non i solisti questi solisti danno fastidio effettivamente e a volte sono un impedimento magari perché hanno poco controllo è una figura che attira molto l'attenzione potrebbe dire quella frase quella parola di troppo per cui scapperebbe dal contesto ecclesiastico di cui vogliono tenere un recinto ben controllato basta pensare anche all'interno nei conventi o nei monasteri come tenevano chiuse le persone che avevano facoltà per far sì che avessero sempre un intermediario perché quella parola di troppo non venisse mai detta quel dettaglio di quella visione di quella sensazione non portasse mai fuori da un certo tipo di contesto e quindi questa sicuramente mi viene in mente mi viene in mente suor suor Lucia la veggente di Fatima che viene praticamente murata viva e la poteva vedere soltanto Tarcisio Bertone Monsignor Bertone dell'epoca e il papa dell'epoca che era Ratzinger nessun altro come mai lei ha parlato con la Madonna perché chiuderla viva murarla viva in un monastero in Portogallo così e soltanto praticamente due persone al mondo il papa e il suo vice e il segretario di Stato le potevano parlare l'avrei messa invece su un altare a parlare al mondo a dire io ho parlato con la Madonna no murata viva stessa cosa milingo io ho assistito a una messa di milingo e vi posso garantire che ho visto in quella cerimonia delle cose pazzesche una messa di esorcismo dove veramente se erano attori quelli sono altro che Marlon Brando cioè pazzesco ho visto della gente fare delle cose una ragazza che pesava 40 kg che con una mano ha alzato un milingo aveva dei suoi adepti dei ragazzi africani che il più piccolo era Mike Tyson il più piccolo c'è gente con delle mani che ti prendeva ti tiravano su con un dito io ho visto una ragazza di 40 kg prende uno di questi africani che ripeto ha alto 2 metri pesato 100 chi c'è con dei muscoli pazzeschi buttarlo a 3 metri se erano attori questi per carità sono bravissimi ma non credo proprio ed era una messa di milingo di milingo non se ne sa più nulla almeno io non ho mai più saputo nulla dava fastidio anche il monsignor di milingo andiamo a vedere altre foto che la nostra regia ci propone se ti raccomettiamo anche ecco qua sono insieme a Mauro Chiappini quel signore che diceva un amico che col quale ho interagito ho collaborato ho dato materiale e siamo davanti alla famosa torre costruita dalla chiesa giuristatica sul Monte Labbro qui nel Montamiata questo è un disegno di Davide Lazzaretti vedete il Monte Labbro lui lo chiamava Montalabaro il Monte Labbro Labaro da Labarus e vedete la struttura che lui voleva edificare questa torre molto alta dedicata appunto è il suo emblema il suo simbolo questa torre la costruirà però crollerà in parte oggi c'è soltanto più un punto ed era la torre che doveva essere bombardata dai famosi cannoni negli anni 50 la grotta di Maria Maddalena vedete ecco il simbolo si intravede quella doppia c con la croce in mezzo una c vedete si vede in giallo qui siamo nella grotta di Maria Maddalena dove c'era appunto la statua della Maddalena e qui appunto vedete sempre il simbolo la doppia c con la croce in mezzo ferito mortalmente Davide Lazzaretti il 18 agosto 1878 i giurisdavidici nel 1985 i giurisdavidici sono ancora una chiesa non sono molti ecco sicuramente però continuano a mantenere vivo il ricordo e il pensiero di Davide Lazzaretti e riqueto Davide non Davide come re Davide ecco qui la stessa torre che doveva essere il poligono di tiro dei cannoni e quindi sarebbe stata polverizzata invece c'è ancora il suo stato poco tempo fa qui all'interno della chiesa di Davide Lazzaretti vedete sempre i suoi simboli le sue scritte gloria a Dio all'alto dei cieli pace in terra gli oli di buona volontà e poi tutte queste sue scritte che lui lasciava i muri ne sono pieni ecco questi è il suo simbolo la doppia c che idea ti hai fatto del significato di questa doppia c con la croce in mezzo ci hai mai pensato a provare sì mi fa pensare a una doppia figura di Cristo la c giusta Cristo e la c al contrario l'altro Cristo e mi fa pensare anche una via crucis particolare che c'è in una chiesa che io visito molto spesso che ne abbiamo parlato qua dove si vedono palesemente due Gesù uno che muore sulla croce a 33 anni e sono dipinti del fine settecento inizio ottocento e non li ha fatti Banksy o Basquiat e l'altro è lo stesso Cristo nella stessa via crucis che ne ha 70 come mai l'anonimo pittore ha voluto lasciare due persone così diverse un Cristo che ne ha 33 e un Cristo che ne ha 70 allora mi fa pensare che l'altra C sia l'altro Cristo allora un Cristo come se avesse un gemello secondo alcune scritture la croce in mezzo e c'è sempre la croce però è una C giusta è una C al contrario un doppio Cristo o una doppia identificazione del personaggio uno tangibile e un esoterico non dimentichiamo una cosa molto importante Gianluca che tra i padri della chiesa Clemente d'Alessandria dice che Gesù ha lasciato due messaggi un messaggio per tutti la fratellanza l'amore ma un messaggio esoterico e lo dice un padre uno dei padri della chiesa che questo è la classica perla e i porci non è per tutti il vero emblema della figura di Cristo è l'altro messaggio quello esoterico allora Davide Lazzaretti in queste due c forse ci ha voluto nascondere questo bellissima anche l'interpretazione che danno in chat Isabel e Ciamelle due c sono due mezzelune una crescente una decrescente femminino sacro torniamo sempre al femminino sacro c'è chi lo paragona anche al glifo del segno dei pesci ti fanno i complimenti anche per questa puntata un'ora e dieci sono volate sì mi piace è veramente bello cioè quando facciamo questa puntata non lo so è come entrare in un'altra dimensione veramente bello veramente bello bellissimo io starei starei delle ore col tempo volo infatti devo guardare ogni tanto l'orologio per rendermi conto perché vola il tempo e invito veramente a contattarmi all'indirizzo che poi vuoi passare con Mesbet è già in descrizione del video ma ridillo così la gente potrà anche segnarsela con che mail preferisci essere contattato esatto è il mio cognome baglietti ciocciola protonmile.com ripeto baglietti il mio cognome ciocciola protonmile.com e l'altro semplicemente giorgio baglietti scrittore tutto attaccato giorgio baglietti scrittore gmail.com giorgio baglietti scrittore gmail.com scrivetemi dove volete io risponderò a tutti garantito parola se vi è piaciuto noto con piacere che visto che andiamo avanti con i mesi qualcuno ti ha conosciuto oggi per la prima volta ci sono anche tutte le altre puntate che abbiamo fatto insieme a Giorgio il book Mesbet ce le mostrerà ci sono delle tematiche che hanno fatto veramente parlare e vi invito poi a venirci ad ascoltare dal vivo faremo poi un altro evento insieme a Giorgio partiamo da Relle Chateau sicuramente i costruttori di cartegrali i catari i cagot ne avremo vedrete quanti quanti temi sono già stati affrontati vi invito a recuperare l'intera playlist dedicata a Giorgio Baglietti e se vi va anche a supportarlo con i suoi libri e ci sono anche dei progetti con la nostra casa elettrica assolutamente e anche viaggi io invito veramente adesso quando arriverà poi diciamo il primavera sia Relle Chateau in Francia e la Relle Chateau italiana di cui ne parleremo magari ma se mi iscrivete poi contattatemi ho contattato direttamente il canale ma sarà un vero piacere conoscerci anche di persona nei prossimi eventi oggi è il primo gennaio iniziamo perfettamente questo anno molto bene vi invito a seguire anche il blog facciamofintachè.com andate per gli articoli le curiosità e quel che ci riguarda su tutti i social Telegram Instagram Facebook Twitter che adesso si chiama X i tre canali YouTube insomma siamo veramente sul pezzo e se va parlate di noi contribuite per far crescere questo canale abbiamo la mission di arrivare a centomila iscritti e poi se vi piace l'attualità al mattino con Marco Rico De Graia e la sveglia delle otto e che oggi è andato eccezionalmente alle diciassette e alle diciotto invece il mio editoriale sul canale Gianluca Lamberti se vi va provare a unire i puntini sull'attualità ma i canali di attualità devono a parer mio sempre e comunque passare da facciamo finta che poiché un'informazione libera un altro mondo non può che nascere tenendo conto della spiritualità della storia antica della filosofia dell'esoterismo di tutto ciò che riguarda e che è anche pilastro portante del canale facciamo finta che a parer mio solo così si è centrati e coerenti in quel che si prova a fare assolutamente mi permette un po' di aggiungere una cosa ho un canale social su un telegram che è strettamente collegato a facciamo finta che perché è il mio canale per eccellenza che è semplicemente Giorgio Baglietti official Giorgio Baglietti official su telegram e tutto quello viene poi trasportato anche poi diciamo è tutto collegato a facciamo finta che ecco è una branchia grazie di cuore amici appuntamento a domani su tutti i nostri canali grazie Mesbet in regia fedelissimi veterani abbonati se vi va mandate questa puntata a chi potete chi pensate sia interessato alle nostre tematiche grazie di cuore a tutti promo un grande abbraccio a tutti ciao come scrisse George Orwell chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato facciamo finta che è il canale youtube ideato e diretto da Gianluca Lamberti sono quattro i nuovi video ogni settimana il lunedì il mercoledì il venerdì e la domenica alle 21 e 30 in diretta sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione facciamo finta che è presente su ogni social a te basterà seguirci grazie a tutti